Musica Parcure io e il signor Basta che volo di sotto No Alex basta 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 Allora A map by super trinity Ci sono un paio di testoline Che immagino siano tipo i costruttori E i vari youtuber che hanno giocato Sulla sinistra ci sono tutti gli youtuber Che ci hanno giocato E prima o poi ci sarà anche la nostra testa di cavolo Perfetto Allora ragazzi Come si chiama la mappa dei slime king Sarà una mappa parkour Con 15 livelli Esatto No non lo so No non lo so se ci sono gli slime Stai zitta Scusa vai Una mappa parkour con 15 livelli Tutto in tema slime appunto E lo vedrete Sarà impostata come la Christmas calendar Quindi per chi non conosce la Christmas calendar Andate a vederla Trovate il link della playlist Nella descrizione del video Come Troverete anche il link del download di questa mappa Il link della playlist di questa mappa Il canale di Alex mi raccomando Ok Il canale di Alex ragazzi E anche il link per acquistare i server dai game hosting Quindi mi raccomando Passate nella descrizione sempre Comunque Fammi arrivare Ok allora vediamo un po' No chain Ok non cambiare mod Game mod Non rompere i blocchi Ed è richiesto Minecraft punto 8 soltanto Come giocare Il tuo obiettivo sarà completare tutti i 15 livelli Questo parkour Si risolve Dai no 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 Dai ma sei un deficiente Non l'ho fatto apposta Non l'ho fatto apposta Non l'ho fatto apposta Lo giuro non sono stato io È stata la mella d'oro Colpirti Dove sono? Ora capisci? Capisci? Basta basta ragazzi Basta io direi Startiamo Vieni qua Alex dai Siamo tutti qui dai via Tutti? Perché ho uno stack di mele in più? Non lo so Però sofferisce così nel dubbio Buono buono Allora andiamo Vediamo un pochettino Ok qua c'è già uno slime Quindi si inizia di Oh una pecorella colorata Alex Si inizia Vai 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 Non vedo niente Manco io Vai Non vedo nulla Vai Vai Vado io Vai Vado È morivero Vieni Olle Grazie Ma mappa culo Iniziamo con le sculate subito Eh sì Grazie Alex Grazie Ok ragazzi Lo scopo di questa mappa È semplicemente Di Di riuscire a saltare Sugli slime Aiutarvi con gli slime Come potete Lo vedi dove sono? Lo vedi che sono ancora qua? Cosa dici? Come si va avanti? Che sono ancora bloccatissima C'ho pure una pecora Che mi ruba il Ma il maiale Oh Il maiale si chiama Oink È la mucca? Mucca Qua ci sono solo maiali Oink E snort Sì No eh Non inizia Mi è arrivata una mela Mi è arrivata una mela Una mela d'oro mi è arrivata Allora Perché mi è arrivata una mela d'oro? Scusate Ma me l'hai lanciata tu? Ma potrarti Allora 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 Ragazzi Allora Ragazzi Questa mappa Ho superato Bravissima Questa mappa Come detto a inizio video appunto Sarà impostata come la Christmas Calendar A differenza di una piccola cosuccia La Christmas Calendar Era appunto un calendario Quindi doveva uscire Tutti i sacrosanti giorni Oh lei Io sono ando avanti Ok Tutti i sacrosanti giorni Di conseguenza questa Non essendo un calendario Non ha bisogno Di uscire Ma facciamo uscire quando cavolo vogliamo Esattamente In base ai turni di Alex In base a tutte cose E quindi Cerchere Tutte cose e cosa? Non lo so In base a tutto Eee Io ce lo sto facendo Eee che bello Invece io sono appena ricaduto Foffiero Quindi ragazzi Se volete Il continuo Se volete provarlo No aspetta Te devi sta zitto Te devi sta zitto a te Che sono caduto Perché mi hai bloccato Tipo Vai 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 Allora No Aia Mannaggia a te Mannaggia Mannaggia a quel Babuino Ho un fastidio Ho un fastidio Cane alla gola Eh ragazzi Io vi ho consigliato Di prendere la sbobbocilina Che è una roba Una roba epica Non riesco a fare Io ho finito Alex Come è finito? Io ho già finito E non voglio toccare La pressur Perché se tocco la pressur Vado a finire Nel prossimo livello Quindi aspettiamo Alex E intanto vi spiego Appunto Eee Dai Sicuramente ragazzi Non uscirà tutti i giorni Questa mappa Eee Perché appunto Non vogliamo sclerare Come con la Crescina Scalender C'ho la musca in mezzo ai coglioni Dove salto che c'ho la musca C'ho la musca Lei Si è messa proprio davanti Si era messa Dai 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 Alex E Dai ce l'ho fatta Dai Mi so cagata addosso Ma ce l'ho fatta Dai 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 tanto c'è la scaletta 370 Perché devi fare il pirla Non lo so Beh Emo dove cazzo dove andà Prova ad andare dritto Dritto di qua o dritto di qua No dritto davanti a te Così Beh Io ho fatto così adesso Emo Emo sali su questo Quale? E questo in mezzo all'acqua E da qua dove sali E arrivi là nell'angolo Prova Ci arrivo Si Io ce l'ho fatta Ma tu sei pro playa Io no No l'ho rotto Come l'hai rotto? L'ho rotto Dai muoviti L'ho rotto? Cosa? Ho rotto lo slime Cosa? Ho rotto la gelatina Che felicità Ragazzi Se vi piace questo tipo di video con Alex Dovete mettere mille pollici in su Che cosa stai facendo? Devo farlo nel foger No Non sei in game mode Ma come non sono in game mode? Dov'era? Qua Là in mezzo Esatto Toglilo va Toglitelo dall'inventario Vabbè Un attimo Ragazzi Per il prossimo video Mille like Voglio che arriviamo a mille like Mi raccomando No a mille like Sporniamo 20 video di sempre Non scherzo Esatto Più like ci sono E prima uscirà Il video Ok Ok Dai Allora rompere Non ci arriva Non ci arriva È lontano È lontano Iniziamo ragazzi Non ci può arrivare Non ci può arrivare È troppo lontano L'ho sistemato male Col cubetto Te lo dice Te lo dice Mua No no L'hai sistemato bene Tranquillo Vado di qua Che vedo che ci sono Altri slime Che cavolo Ma non ci arrivi a questo Cos'è Attenzione Non salire sulla press Ok Finiamo qua il primo video Sì Se volete sapere ragazzi Come sarà il secondo livello Ma c'è scritto Snowfield No 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 Vabbè ragazzi 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 ci vediamo Al prossimo video Mi raccomando Spolliciate Commentate tantissimo Passate dal canale Di Alex Mi raccomando E niente Se vi piace questa serie Sapete dove trovarla Sui nostri canali Ciao ragazzi E state sti cazzo di like Ciao